Tutto è pronto, partite le ammazzo nelle fantine di questa prova con Viozze e Jabot che si mettono dietro, vediamo chi va davanti, Blu Cobalto, Dragonino e Grubil precedono Cerchiaia e King Filario, poi Jabot e Viozze. E' avuta fuori, la prima frazione è abbastanza svelta con Blu Cobalto in vantaggio su Grubil, largo si mantiene King Filario, quarto in corda Cerchiaia che precede Dragonino, Viozze e Jabot. King Filario fa la frazione per andare davanti, spendendo molto per superare Blu Cobalto, terza in corda è Cerchiaia, quindi dall'interno verso l'esterno Cerchiaia, Blu Cobalto e King Filario, le tre in diagonale con King Filario che va su Blu Cobalto e Cerchiaia, poi Dragonino e Grubil che precedono Jabot e Viozze. Cerchiaia sfila all'interno Blu Cobalto in mezzo alla pista King Filario, poi Dragonino, Grubil, Viozze e Jabot con Cerchiaia che prova a lungare in corda, inseguito sempre da Blu Cobalto, da Grubil, da King Filario e da Dragonino, poi Viozze con Cerchiaia che scappa da Grubil, poi Dragonino, allargo Viozze all'interno Jabot, nel finale Cerchiaia in vantaggio su Dragonino, Grubil, Viozze e Jabot e nel finale Cerchiaia torna a uno standard minimo che gli basta per vincere questa corsa lasciando Jabot, Dragonino e Viozze vicini per il secondo, terzo e quarto posto. Cerchiaia, Cristina Bezzekova per Elisa Castelli, vincono questa prova per il secondo, terzo e quarto, sono Jabot, Dragonino e Viozze dall'interno verso l'esterno da dividere per il secondo, terzo e quarto posto. Cinque E poi All'interno c'è All'interno c'è